Nissa con la testa al Gela per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia. Risultato dell'andata 2-2. La partita si giocherà al campo sportivo 11 Martiri di Riesi, alle ore 15.30 di domani, mercoledì. Lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta è indisponibile per lavori in corso. E a Riesi la Nissa potrebbe giocare anche la seconda giornata di campionato contro l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Non ci sarà pubblico ad assistere al derby, incontro a porte chiuse e quanto si legge sulla pagina social biancoscudata. La Nissa è reduce dal tonfo di domenica sul campo del Casteldaccia, un 3-0 che i nisseni intendono cancellare con la conquista della prima vittoria stagionale. Il derby potrebbe essere un ulteriore test di verifica per il tecnico Alessandro Settineri che spera in un pronto riscatto della sua squadra a partire dall'impegno contro i Gelesi. Il quadro completo delle gare in programma tra parentesi i risultati dell'andata. Casteldaccia Parmonval, oratorio San Ciro e Giorgio Don Carlo Misilmeri, Enna Leonfortese, Nissa Gela, Cus Palermo Resuttana San Lorenzo, Mazzara Mazzarese, Castellammare Sciacca e Profavara Acragas. Spero che mercoledì diamo tutti una risposta, una risposta a livello di caratteriale, quello sì. Non è tanto il passaggio del turno, ma bensì una risposta a noi stessi se siamo sulla giusta strada.